Giri il maglio. Sì dai. Ah bella idea. Ah poi te lo tagli tu. Sì, fai quello che vuoi. Routine di studio. Oggi ragazzi il video è complicato perché la tematica è un po' difficile. Quindi prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla cappardina per attivare le notifiche, andare sui miei soggi all'Instagram e Facebook, andare sul sito Castiglub a leggere l'articolo. È difficile questo video perché mi avete fatto un po' di volte questa domanda. Mi dici qual è la routine di studio giusta. E non è semplice perché per ognuno la routine è diversa. Uno si trova meglio con un metodo ma non con un metodo libro. Nel senso con un metodo di studio, uno si trova con un altro metodo di studio. Quindi ognuno ha la sua. Oggi voglio provare a dirvi la mia. Non tanto quella che io ho usato nel tempo, ma voglio dirvi quella che secondo me ad oggi è la routine migliore. Il modo migliore per cercare di diventare batteristi migliori. Sembra la pubblicità della... Non lo so. La prima cosa che secondo me un batterista deve fare quando dice ok adesso mi creo la mia routine di studio è pensare cos'è per me la batteria. Nel senso lo voglio fare di lavoro, lo sto facendo di lavoro, lo voglio fare come passatempo, lo voglio fare perché dopo 8 ore in ufficio a lavorare, voglio arrivare a casa e sfogarmi, spaccare tutto. La routine di studio cambia completamente e ovviamente. Per quanto mi riguarda se uno vuole arrivare dopo 8 ore di ufficio o 8 ore di qualsiasi lavoro, che ne so l'ufficio è la prima cosa che mi è venuta in mente, e spaccare la batteria per sfogarsi, secondo me è giusto che lo faccia nel senso... Non spaccate la batteria. È giusto perché io ai miei allievi che fanno un altro lavoro, io gli dico sempre voi ve lo meritate. Quando arrivate a casa e siete stressati da tutto il lavoro che fate e volete sfogarvi, io non vi dico sicuramente di mettervi lì e fare lo stick control e il 4-way coordination, anche perché se no lo stress aumenta. Dite forse era meglio se rimanevole a lavorare. Però la cosa è, non è che potete solo suonare le canzoni o suonare per i fatti vostri, dovete cercare dello spazio per studiare anche i metodi, per studiare quello che il vostro insegnante vi dà, per studiare quello che vi piace ma che vi serve, perché ovviamente suonando le canzoni e non studiando nulla si migliora, però la tecnica non migliora tanto, la coordinazione più o meno rimane sempre quella lì, può migliorare un po' il gusto di quello che stiamo facendo, perché magari suoniamo sempre canzoni diverse, sentiamo batteri diversi. Quindi la cosa è, cercate magari quando avete più tempo per studiare, quando avete più tempo per suonare, che ne so, oggi o due ore, magari mi faccio un'ora in cui suono, però mi faccio anche un'ora in cui studio, studio quello che ho per la settimana. Poi ovviamente se arrivate la sera a casa alle otto e mezza, mangiate, poi volete suonare la batteria a mezz'ora, ma per i cavoli vostri, suonatevela tranquillamente. Invece chi magari, soprattutto che ne so, i giovani, oppure comunque chi non lo fa ancora di lavoro ma vorrebbe farlo, chi lo fa già di lavoro, o semplicemente chi ha già un altro lavoro ma vuole studiare la batteria bene. C'è una cosa da capire, prima di tutto, il tempo a disposizione. Capito il tempo a disposizione, poi possiamo andare a sezionare il tempo più o meno. Un'ora faccio questo, per un'ora faccio quest'altro, per due ore faccio quest'altro. Punto a caso, adesso vi ho detto questo, molto rigoroso, un'ora questo, un'ora quello, un'ora quello. No, tranquilli, oggi faccio un'ora di quello, ma se è un'ora e mezza e quello che faccio per un'ora lì lo rubo all'ora che avrei dovuto far dopo, non fa niente. Basta che non escludete una cosa. Il giorno dopo magari farai un'ora e mezza dell'altro e farei solo mezz'ora di quello. Cioè, tranquilli, non vi preoccupate di questo. Perché ve lo dico? Perché io ero così, nel senso, 40 minuti di quello. Allora, 40 minuti, guardiamo l'orologio, oppure mettiamoci il timer. 40 minuti, stavo facendo l'esercizio, ah mi è quasi venuto, eh no, sono passati 40 minuti, quindi basta. No, continuiamo a fare l'esercizio finché viene bene. Poi, quando viene bene, al massimo abbiamo rubato un po' di tempo dagli altri esercizi, fa niente. Domani magari comincieremo proprio dagli altri esercizi in modo tale da cercare di farli meglio. Quindi, vi dicevo, il tempo. Allora, il tempo a disposizione, quant'è? Boh, abbiamo mezz'ora al giorno, un'ora al giorno, quattro'ora al giorno, otto'ora al giorno. Allora, se abbiamo mezz'ora, un'ora al giorno soltanto, secondo me non possiamo pensare a una routine giornaliera, bisogna pensare più a una routine settimanale, perché non possiamo andare a sezionare troppo una mezz'ora. Cosa facciamo? Dieci minuti di uno, dieci minuti dell'altro, dieci minuti dell'altro, non serve a nulla. Al massimo ci faremo oggi mezz'ora di una cosa, domani faremo un quarto d'ora di una cosa, un quarto d'ora dell'altra, una cosa del genere. Io lo studio, o comunque quello che abbiamo da studiare, diciamo, lo dividerei in tre grandi macrosistemi. Ma, macro insiemi, ma, mmm. Lo dividerei in tre. Una parte meccanica, cosa vuol dire? La parte dei metodi che servono per la meccanica sullo strumento. Ad esempio, che ne so, vi ho fatto vedere in qualche video fa, il gioco usati. Il gioco usati ci serviva per i movimenti veloci e per la tecnica. Quello, oppure il for way coordination, ce ne sono tantissimi per la meccanica. E, come avete capito oggi, non vi dico, fate quel metodo, quel metodo, quel metodo, perché dipende da persona a persona. Però, i metodi che servono per la meccanica sono tutti quei metodi che possono essere di tecnica o anche, che ne so, nel jazz, coordinare perfettamente lo swing del piatto con la cassa rullante o, che ne so, anche il Gary Chester, coordinare perfettamente l'ostinato che stiamo facendo con le mani o con i piedi con le letture. Cioè, quella parte che ci forgia, veramente. Quando andiamo a suonare, suoniamo magari gli ottavi, li suoniamo nel modo giusto. Suoniamo i sedicesimi nel modo giusto, riusciamo a spostarci velocemente la batteria. Sono quelle cose che, comunque, applicate ai prossimi due macrosistemi, macro... Così, vabbè, ci servono veramente tanto. Poi, secondo macrocoso, quella parte che pochi batteristi fanno e pochi batteristi sanno che esista. Il tempo. Allora, quanti di voi studiano il tempo? Io sono arrivato a un certo punto, quando mi hanno chiamato con una band, a dire, vabbè, ma lì suoniamo a metronomo, che problema c'è, oh, ma io sono uscito dall'accademia del suono, ho preso un bottone, di cosa stiamo parlando? Non sapete con chi state parlando? Poi, sono arrivato al primo live e mi hanno detto, o vai a tempo, oppure... Studiare tutta quella parte sul tempo, tutta quella parte un po' cervellotica, che dove bisogna pensare veramente al tempo, fatto bene, capire le pause, quanto tempo dobbiamo andare alle pause, tutti quegli esercizi che in realtà ogni tanto vi faccio vedere sul tempo e che possono essere degli esercizi che ho preso da Benny Greb, che è degli esercizi che ho preso dai libri di Dei Lazzaretti, tra l'altro i libri di Dei Lazzaretti sono tra i libri, secondo me, migliori per studiare il tempo e ti aprono la mente. Oppure anche tutti quei metodi, tipo quelli di Gavin e Harrison, sulle poliritmie, su tutte queste cose qua, dove comunque andiamo a sforzare il nostro cervello tantissimo. Sono quegli esercizi dove ci sentiamo come se avessimo studiato 8 ore. In realtà non abbiamo studiato 8 ore, magari abbiamo studiato solo un'ora, però il nostro cervello si è stancato tantissimo perché abbiamo dovuto pensare, 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 pensare tanto. Questi, secondo me, sono gli esercizi che pochi batteristi fanno, ma sono importantissimi. Perché sono importantissimi? Sono importantissimi perché sono gli esercizi apposta per noi. Cacchio, dobbiamo tenere il tempo e questi sono gli esercizi per il tempo. Ultima parte, invece, è la parte più creativa, quella un po' più divertente, quella che ci serve anche di più magari quando andiamo a suonare. E cosa vuol dire? È la parte in cui dobbiamo andare a suonare delle canzoni, dobbiamo andare a studiare delle canzoni nuove, dobbiamo andare a studiare magari una parte del fraseggio. Quindi, di questa categoria ci sono molti metodi. Ad esempio, che ne so, il ghericeffi. Mi viene in mente tutti i tipi di ghericeffi dove si parla di sticking, dove si parla di linear. Ci sono questi esercizi che sono molto creativi perché lui ti dice, io ti do degli ingredienti che magari possiamo studiare come tecnica del pad nella prima parte che vi dicevo, quella meccanica. Quindi studiamo meccanicamente come sono gli sticking. Poi dopo, invece, in questa parte andiamo a mettere insieme tutti gli sticking e cerchiamo di applicarli sulla batteria per formare dei feel, per formare dei groove, per formare cose nuove che poi comunque sono quelle che andremo a suonare. Ma questo non significa solo quello che vi ho detto adesso. Non è che solo ceffi bisogna suonare per la creatività. Ci sono centinaia di metodi che magari vi fanno vedere. Un metodo vi fa vedere più la parte linear e sticking, appunto. Un metodo vi fa vedere, non lo so, tutta la parte di fraseggio del jazz. Un metodo vi fa vedere tutta la parte di fraseggio o creatività sul groove, del rock oppure del latin. Non lo so, ce ne sono tantissimi. Questo poi va a discrezione di ogni batterista. Magari che ne so, trascrivere un groove che ci piace. Oppure ascoltare della musica diversa. Ascoltare della musica che non abbiamo mai ascoltato. Dei generi diversi per capire se magari possiamo prendere qualcosa da quel genere e renderlo nostro. Tutta questa cosa qua. So che ho detto tantissime cose e non sono tutte cose che possiamo studiare subito. Però per dare l'idea di quello che secondo me è il macrosistema. Quindi come sezioniamo il tempo? Allora, per prima cosa dipende se siamo all'inizio dei nostri studi oppure se studiamo già da anni. Perché se io ho uno che all'inizio gli dico dai fammi qualcosa di creativo. E lui mi dice, cioè. All'inizio bisognerà ovviamente studiare di più tutta la parte della meccanica tutta la parte della tecnica tutta la parte magari anche del tempo dopo pian pianino incomincieremo a mettere tutta la parte creativa quindi suonare sulle canzoni, fare i feel fig, fare i feel diversi farsi i passaggi di un certo tipo, studiare cose nuove quindi non è che ci sia proprio per forza una sezione da fare ognuno deve farsi la propria Prendiamo ad esempio me Io adesso sono più o meno 10 anni, 12 anni che suono più o meno, 10-12 anni che suono io penso di dover fare più o meno un quarto di meccanica un quarto di cervellotico e due quarti di creatività che poi può cambiare l'ho buttata un po' lì adesso uno che comincia invece magari non studia subito 6, 8, 10 ore al giorno studia un po' meno quindi che ne so magari si fa due quarti di parte meccanica un quarto di tempo e un quarto di parte creativa quando riesce a incominciare a suonare sulle canzoni quindi ognuno deve farsi la propria routine io vi ho dato un po' di idee ma questa è la distinzione tra i vari macro insiemi e perché? perché se io ad esempio dico ok adesso mi piacciono questi tre metodi che sono timing rule di Maurizio De Lazzaretti poi time rudiments di Maurizio De Lazzaretti e il metodo di Kevin Harrison e arrivo a fine giornata che sono morto e poi ho studiato sempre per la stessa cosa nel senso per il tempo ok? poi ci sono esercizi diversi però veramente arrivo a fine giornata che sono... ce la faccio più e il giorno dopo di nuovo? e il giorno dopo ancora di nuovo? no non è possibile quindi bisogna cercare di spaziare e variare un po' la propria routine quindi il video di se stai fermo però magari potrebbe essere una cosa buona finisce qui so che sarà un video lunghissimo non so quanto durerà ma ho parlato tanto quindi durerà tante ma vabbè lo so che magari vi ho annoiati ma trovare la propria routine di studio è una cosa veramente importante e tante volte ci permette di migliorare di più o di meno se non ho detto qualcosa o se magari ho lasciato dei punti in sospeso che non me ne sono accorto mentre parlavo o se non ho detto qualcosa proprio scrivetemelo qui sotto nei commenti tanto come avete visto io cerco di rispondervi il prima possibile a qualsiasi cosa mi chiediate io non è che sono un luminare ma magari vi dico secondo me per la mia esperienza secondo me quello va meglio se lo fai dopo boh magari posso darvi qualche consiglio oppure comunque andate qui sotto nei commenti e leggete anche quello che scrivono gli altri così magari anche voi prendete spunto dagli altri e quindi si comincia a creare una bella roba parliamo facciamo con figo 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 io quindi vi ricordo di iscrivervi al canale di andare sui miei social Instagram e Facebook mi è caduto il microfono vabbè tanto sono alla fine del video di andare sul sito Gastube a leggere l'articolo e noi ci vediamo al prossimo video basta che è già durato troppo sto video ciao ciao